Ciao ragazze, oggi non mi vedete, spero di non farvi venire il mal di mare, nel senso che sto girando questo video col cellulare in mano, come avete potuto vedere dal mio dito che è spuntato a un certo punto, intanto vi saluto, ciao! Ripeto, oggi non mi vedete perché questo è un video un po' diverso, a parte che sono senza trucco, quindi non vi voglio spaventare, e niente, vi voglio far vedere come ho creato questa nuova agenda in formato A5, perché mi ero un po' stufata dell'agenda che ho, della personal che ho, quella della Thun, perché non si apre bene, i fogli sono troppo piccoli, insomma una serie di cose che mi hanno un po' stufata, quindi quella la voglio mettere un attimino da parte, però non volevo assolutamente spendere 30-40 euro, 70 euro, cioè cifre assurde, per un'agenda formato A5 nuova, e quindi ho deciso di farmela da me. Io ho preso semplicemente un quaderno ad anelli, un quaderno ad anelli di quelli, uno che avevo in casa, in formato A5, di quelli normalissimi, e l'ho ricoperto, io ho scelto, qua vedete i resti, questo era un sacchetto, vedete, era un sacchetto, io ho utilizzato, sono rimaste praticamente solo una parte del manico e il fondo, ho usato la parte intermedia, insomma, per ricoprire, per rivestire il quaderno, allora vi voglio, ve la faccio vedere nel dettaglio, ovviamente ragazze non è perfetta, anzi è piena di difetti, vi dirò tutte le magagne varie che ho riscontrato nel farla, ci ho messo una vita per farla, quindi insomma, abbiate pietà, io non faccio questo di lavoro, è solo una cosa che ho voluto creare per me e la volevo condividere con voi. L'elastico non è assolutamente definitivo, ne prenderò chiaramente uno più carino, però questo mi serve perché sennò tende ad aprirsi, perché è chiaramente tutta plastificata e quindi, niente, come potete vedere appunto è ricoperta sia davanti che dietro, l'ho poi plastificata con la plastica trasparente e siccome non ho speso niente né per il quaderno né per il sacchetto che erano cose che avevo già in casa, ho deciso poi di spendere 4 euro per comprare degli sticker, questi qui con le farfalle che sono bellissimi, che sono questi qua, io ne ho usati 3 per ora, questi qui e poi questo qui appunto, questi qui pagati 2 euro, ho usato questa striscia qua come potete vedere che l'ho messa qua per abbellire un po' appunto la copertina. Poi apriamo, allora io vi sconsiglio di fare come ho fatto io, nel senso che io ho utilizzato appunto questo cartone rigido che però essendo rigido, come potete vedere, anche se io l'avevo fatto per andare a filo degli anelli nel momento in cui io lo chiudo, spinge la plastica, è troppo rigido quindi tende a risalire, quindi vabbè questa è una magagna, però ormai il quaderno l'ho fatto e me lo tengo così insomma, cioè l'agenda ormai l'ho fatta, a me piace, per quello che devo fare io va benissimo, quindi poi tra l'altro mi piace l'idea di dover comprare solo dei fogli a 5 e di intercambiarli quando ce ne ho voglia, e basta insomma, senza ordinare cose online, cose strane, ultimamente sono diventata una donna pigra e pratica e quindi ho preferito fare così, certo non è bellissima, mi rendo conto, però ripeto questa è un'agenda a costo zero che mi sono costruita io, nel momento in cui avrò voglia di spendere qualche soldino in più me ne prenderò una, sicuramente più professionale. Comunque niente, all'interno l'ho appunto ricoperta tutta come la copertina, cioè sono andata a proseguire la mia copertura e invece di creare dei tagli che non mi piacevano per fare le tasche, ho messo questi inserti con il biadesivo e qui ci posso appunto mettere qua ci ho messo una mollettina, qua ho creato una clip sempre con la farfallina di queste qua che ho comprato e qua ho messo una tasca sempre attaccata col biadesivo, queste non le ho plastificate ma perché tanto sono talmente rigide e vanno bene così. Dicevo poi ho messo questi che sono appunto dei segnapagina, insomma adesso non mi viene il termine esatto e le ho fermate con una clip, perché sennò vanno in giro. Qua ci sono i fogli, ovviamente non ho ancora fatto niente, né dashboard né niente, per ora ho inserito i fogli che avevo, tra l'altro devo comprare perché sono pochi voglio vedere se trovo dei fogli anche magari non con le righe, insomma vediamo un po' poi come abbellirla questa agenda. Vorrei fare delle diverse sezioni, poi chiaramente ragazze se vi interessa ve la farò vedere quando poi l'avrò abbellita e arredata, tra virgolette, tutta, quindi insomma adesso vi faccio vedere oggi vi faccio vedere solo la copertina che già questa mezza giornata mi ha preso, quindi e niente, poi sì, togliendo i fogli, ecco vedete che anche qua tende ad alzarsi perché il cartone è molto rigido quindi nel momento in cui io la vado a chiudere poi tende a alzarsi, quindi insomma io vi sconsiglio di utilizzare del cartone troppo rigido come ho fatto io, invece se utilizzate una carta normale per ricoprire di sicuro vi viene meglio, vabbè io non ce l'avevo, avevo questa qua che mi sembrava comunque molto carina, non ho pensato che il cartone potesse crearmi questi problemi, però vabbè ormai l'ho fatta, ripeto, ma la tengo così qua ho creato una tasca così, laterale, e poi qua ci ho messo questo segnalibro che mi sono sempre creata io era un'immagine che ho trovato su un giornale, che è praticamente la riproduzione del quadro Il bacio di Hayez nei diversi momenti della giornata, quindi con diverse luci, e siccome è un quadro che mi piace tantissimo ho voluto ritagliare la figura, attaccarla su un semplice cartoncino, e poi l'ho classificata e quindi questo mi può così servire come segnalibro, ma anche solo così ogni tanto me lo guardo e sono felice, ecco quindi questo, e niente ragazze, quindi questo è quanto questa è l'agenda, a me piace tanto, anche se non è perfetta, però per me, vedete che rimane tende a rimanere un po' così, per quello poi ci metto l'elastico ripeto, non è perfetta, anzi c'ha 1850 difetti però è la mia, me la sono personalizzata io, quindi sono chiaramente contenta così per adesso va bene così vi faccio vedere al volo ho comprato, a parte appunto gli adesivi che vi ho fatto vedere prima ho comprato questo quadernino con dentro le cose da colorare a parte questa qua, la volevo usare come dashboard perché è bellissima e dentro posso mettere o i miei dati o una frase motivazionale quindi insomma, adesso poi vedrò bene comunque ho comprato questo per 3,50 euro con tutte queste belle immagini da colorare qualcuna sicuramente la inserirò dentro perché amo queste cose qua, vabbè sono un po' una bambinona e quindi ho comprato questo e poi ho comprato questo l'ho preso, questo l'ho preso in Italia e questo invece l'ho preso in Irlanda tra l'altro questo l'ho pagato 1,50 euro che se penso quanto avevo pagato quello della Bobanni vabbè lasciamo perdere comunque ho preso anche questo che è sempre in formato A5 e ha un sacco di temi diversi vabbè adesso chiaramente ha 5 pagine dello stesso tema però in realtà, guardate che bello questo con le chiavi ha diversi sfondi e anche questi vedrò se utilizzarli come divisori o come, ah guardate questo che bello con le farfalle con le scritte, insomma ha diversi cartoncini molto carini adesso vedrò, ripeto, se utilizzarli come divisori ma sicuramente qualcosa la inserirò dentro per abbellirla, eccetera e anche magari utilizzerò qualche pagina decorandola sempre con stickers a tema scritte a tema e quant'altro e quindi niente, ho comprato questi due e niente ragazze, questo è tutto fatemi sapere se questa tipologia di video vi piace e abbiate pietà del mio fai da te perché sono ben consapevole insomma che non è nulla di eccezionale però ripeto, io sono comunque soddisfatta mi piace molto e volevo condividerla con voi niente, basta, sto video sta venendo anche fin troppo lungo vi mando un bacione enorme e niente, per questa tipologia di video ci vediamo quando l'avrò abbellita dentro così ve la faccio vedere ok? un bacione e ci vediamo al prossimo video ciao! ciao!